Ciao a tutti amici, sono io, Yulia War, e oggi sono qui per aprire insieme a voi questo pacco contenente tantissimi spinner. Allora, questo mi è stato regalato da mio zio e oggi lo apriremo insieme. So già che contiene tantissimi spinner, però non so di che tipo, infatti sono molto curiosa. Direi di aprirlo subito. Ok. Oddio. Ragazzi, sono tantissimi, davvero non immaginavo fossero così tanti. Alcuni sono anche caduti. Comunque, noto già vari doppioni, infatti sto pensando di fare un giveaway. Però di questo ve ne parlerò solo alla fine del video. Magari non li apriamo tutti, anche perché molti sono doppioni, come ho già detto. Vedete per esempio questi. Quindi ne aprirò solo uno per tipo. Comunque, sono spinner mondo. Ho fatto anche altri video sui prodotti mondo che vi consiglio di vedere. Questi spinner, inoltre, si possono acquistare nei negozi di giocattoli e nell'edicola. Vi lascerò qua sotto il link del sito. Comunque, allora, come possiamo notare c'è questo spinner con i palloni Super Santos. Poi questo con le emoji. Vedete, ce ne sono vari tipi. Poi questo che invece, penso che abbia a che fare sempre con le emoji, però ha solo delle palline così. Poi questo colorato, con vari colori. Ci sono anche altri tipi, vedete. Rosa. Poi questo qui, semplice, nero. E credo che siano finiti. Sì, poi ovviamente di quello con le emoji ce ne sono vari tipi. Allora, direi di vederne uno per tipo. Quindi uno Super Santos, uno colorato, eccetera. Ok, li ho scelti. Adesso direi di spostare tutti questi. Allora, ragazzi, ho scelto questi quattro. Direi di partire subito. Partiamo da questo qui, col Super Santos. Allora, l'età consigliate dai quattro anni in su. Allora, tagliamo. Eccolo qua. È abbastanza semplice. Basta praticamente seguire questo tratteggio. Eccolo qui per toglierlo. Ecco qua appunto il nostro spinner. È arancione. E su questi pallini, che da un lato sono bianchi e dall'altro è giallo, ha appunto i Super Santos. Eccolo qua. Molto carino comunque. Dopodiché, c'è questo qui, sempre arancione, che penso sia il più semplice. Eccolo qua. Arancione. Mentre i cerchi sono completamente neri. Dopodiché, c'è questo qua, che almeno a me piace molto, che sarebbe rosso, con i vari pallini gialli, blu, giallo, blu e arancione, per quello centrale e verde. Oltre a questo colore, ci sono anche quello fucsia. Quello fucsia, con i pallini giallo, verde e blu, e quello centrale e bianco. E quello celeste, con i pallini rosso, giallo e verde, e il pallino centrale e bianco. Questo di sicuro sarà uno dei miei preferiti, perché è molto carino. E infine, oddio, infine passiamo a quello dell'emoji. Eccolo appunto. In questo caso io ho scelto quello con la scimmietta, ma ce ne sono tantissimi, davvero. Per esempio c'è questo qui con le cacchine. E varie espressioni, come tra l'altro sta su quello delle scimmiette. Poi questo con varie faccine. Quest'altro che invece ha solo un tipo di faccina con gli occhiali da sole. E infine questo qua con queste palline, con vari numeri. In questo caso quello che ho scelto io è tutto giallo, e ha le varie scimmiette. È molto molto carino. Poi io adoro le scimmiette su Whatsapp, le uso spessissimo. Perciò ragazzi, spero che questi spinner vi siano piaciuti. Sono molto carini. Vi ricordo che si possono acquistare sul mondo. Però, visto che ne ho così tanti e molti sono doppioni, come avevo accennato prima, ho deciso di fare un giveaway. Però sarà un po' particolare, perché il vincitore o i vincitori avranno uno spinner ogni 500 like. Quindi, quando questo video raggiungerai 500 like, premierò una persona. Se raggiunge i 1000 like, ne premio due. E insomma, ogni volta che si arriva a un multiplo di 500, una persona riceverà uno spinner. Per partecipare, le regole sono sempre le stesse. Quindi, bisogna essere iscritti al mio canale. Bisogna mettere like a questo video e condividerlo sui vari social. E inoltre, bisogna commentare ogni giorno sotto questo video. Sotto gli altri video non vale. Quindi, dovete commentare ogni giorno sotto questo. Mi raccomando, partecipate in numerosi e convincete tantissime persone a mettere like. Mettete like dal vostro telefono, da quello dei vostri genitori, dal computer, dal tablet, dall'iPad. In modo tale che i vincitori siano sempre di più. Bene, adesso passiamo ai saluti. Grazie a tutti. Spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!